Musica Davordì che gli fa? È così, come si chiama lì? La Divine Sword gli fa Poteva mettere l'ultimate, poteva mettere, no? Ma perché non mettere l'ultimate? Che è già quello, su che cosa è il vecchio di due anni Due le 22 Cioè, ci stava benissimo Boh, vabbè Non lo so, eh Ma in che senso? Questa è la via, signori Questa è la via Sempre meglio di dire colob su un naranzo che esce di uno slime Vai a fare Grazie Io ce la farò Sono convinto Che ce la farò Io ce la farò Io batterò tutti Ma non mi ha fatto paura cazzo Tutto come non è morta Colo Muori dinanzi a me Lascia stare Pur di usare il zel di K Fanno anche team da 2 Che si Stava per chiamare Jack e Ken Porco dio porco Porco dio Jack Vieni qua stelluna Diggli vieni Jack Jack Vieni C'è Ken Si è alzato Oh Ma che cazzo dici Dove Il Si è alzato Diggli vieni Da Diggli vieni Oggi è una giornata che va tutta male Ho mandato due offerte a due venditori diversi E l'ho perso entrambe Mi hanno rifiutato entrambe le offerte Come faccio adesso? Ma come non è morto? Zoom I am dei miei forti Come dagli torto Ma scusa eh Ma se te metti su ebay Una carta da 670 euro E io te ne offro 400 Accetti o rifiuti? Ma come rifiuti? Ma che cazzo dite raga? Rifiutate 200 euro in meno 200 Quasi 300 Menni Ma che 200? Oh Ehi Ehi Berlino Menni 200 50-70 ok Oh broberi E si prova a vedere se è un po' Solo no Io gli butto massino Poi lui scende Io arzo un poettino Lui riscende E ci si incontra a metà strada 150 euro in meno Eh Oppure ancora meglio Guarda Menni Io ti mando la tua offerta Per di più un po' 200 euro in meno E lui 300 Perché vuole vendere E io ho preso E magari ti costa Vabbè infatti Mi è toccato scrivergli Per farmi rifiutare E ho detto Guarda la leggi L'offerta La guardi E mi hai risposto Come l'offerta L'offerta è stata rifiutata Eccoci Che è scritto fra? Ah è il team L'ho letto il messaggio del team L'ho letto 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 Zad Arthur Levin Ma non è lui L'ho letto Non è lui Non è lui Non è lui C'è da dire Che sei ancora Il polo supremo C'è se Ma Esiste Boh Se ogni tanto Riappare Nel gruppo delle resine Così Con un po' le resine Ragazzo Con un po' le resine Basta Boh Ma non cazzo è finito Ma come non è lui Ma è un altro personale C'è un bambino Ti sembra Con un extra adulto Ma che cazzo dici Oh Boh A volte mi stupite Veramente Di come provate A trollarmi Con il nulla Più totale Cioè È assurdo Non ho veramente parole Boh Ma che cazzo Di mano hai letto Si chiama The Danger in Miami Se non mi sbaglio Aspetta Eh The End of the beginning Esatto 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 Eh Quello lì si chiama Zad A me Tu me lo dicesi Ma mi incazzo Ma davvero Ehm Danger in my heart Danger Oh Fili Come si chiama Ma non si chiama Danger in my heart Oppure End in my heart Come si chiama Non mi ricordo Veramente Io Quando mi ritornate così Ragazzi A volte proprio Si vede che ci metete Tanto impegno Si vede veramente Un sacco E io a volte Rimango anche male E anche stupito Perché non Non mi spiego Come sia possibile Con tanta Davvero Ma sta prendendo Per il culo No Ma perché dovrei Me lo spieghi Eh Capito Ma te fra quanti punti sei Questa Proprio In queste pvp A quanti punti hai fatto Che a quanti punti sei In questo momento Dammare 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 1600 In questo momento Come è me Allora Gotokad Non mi puoi fare niente Sono Ineruttabile Sono Grande buff Grande away Grande single target E morti tutti Bah Come bah Ma raga Ma Scusatemi Ora Fili Ma mi consigli Te le cose E non ti ricordo Nemmeno Cosa cazzo Mi ha consigliato Cioè Questa cosa Ha dell'incredibile Cioè Veramente È assurdo È assurdo No Zad Non ti provare Ma Ma come Bisoggiare Nel 40 Po La 20 Cioè Veramente Guardate A volte mi stupisco, veramente. Allora io direi di far così e poi che abbiamo? No, mi è scliccato, porco dio! Non posso parlare la sera, poca! C'è BDBlade, parla una volta su otto, una volta su otto! Beh, scusa, vieni in call e scrivi in chat, da scorto e fine. Scherzo, BDBlade, eh! Come dice Scherzo, è uscito oggi sul gioco di slime. Scherzo, Scherzo, Scherzo Nefertari. Così, così, e scoppia un po', no? Bugeardo, ieri ti ho visto alle 21 guardare il film delle Barbie. Credo che è più facile che tu bevete in chiesa alle 21, piuttosto che guardare il film delle Barbie, però... dai! Dai! Io ho il nano che dorme a cangio letto, con me parla, ha pure cantato. Io ho con me parla... chi ha cantato? BDBlade ha cantato. BDBlade... BD... No, come? Scherzo. Mi ferma sempre se è più bello. Raga, ma se li fate tutti o sì? A me non pare il vero, eh! Cioè, quittate tutti, a me non pare il vero, lo giuro. Cazzo, me ne frega, mica voglio fare tappa e forza. Se mi fate easy winnare, meglio sì. TAMMARE! TAMMARE! Dopo, va in palestra, rizzo il mio peso con il bilanciere. Torno, scherzo rotta, e si va addirittura fino a giocare a Fate. Così abbiamo l'ipotetica giornata più di merda che mi possa capitare, forse, nell'interesistenza. PORCO! Non ce la posso fa a scrivere il Grand Cross, vediamo! Chi è? Guarda un po'? Ma chi è il Lilia Blu? Oh mio Dio, i miei bichini? C'è la bicchiale mia, me la rubai? C'è lei? Vaffanculo, vai! Ma la so... Dito che pensi? La so dimenticata, manne? Io me la dimentico, vai, te lo dico io. Hai preso l'analisi della nuova forma di Ruffi? Della nuova forma di Ruffi? Paredemente adesso mi manda un Ruffi Panza, è incredibile. Guarda, eh. Adesso mi manda il Ruffi Gear 5th, ma... Mesh che Bound Man mi manda la forma Godzilla Man. Eccolo qua. Eccolo qua.